Signore vi do nuovamente il benvenuto sul mio canale, quest'oggi a vostra grandissima richiesta, sicuramente non mia, torniamo su Battlefield V Dopo praticamente un mese che non giocavo a Battlefield V, il gioco ci informa con tre messaggi molto importanti Soprattutto guardando questa community, come per esempio trovare munizioni, cambiare modalità di fuoco, imparare a curare Quindi cavolo, arrivati a questo punto, cazzo c'è scritto pure come messaggio, mi aspetto un enorme miglioramento in questa community E per chi ha cliccato molto velocemente questo video, perché ha letto nel titolo, usiamo mouse e tastiera su Battlefield V Mi dispiace ma era solo un pretesto per attirare la vostra attenzione E volevi Il gioco non supporta nativamente mouse e tastiera, quindi chiunque lo usa sta facendo una cosa che non è legale A parte questo spero che il video vi possa piacere, buona visione Ah mi sono dimenticato una cosa, mi raccomando, raggiungiamo il 100 like perché cavolo, il gioco me l'avete chiesto voi Quindi pretendo un grandissimo supporto eh No dai sto scherzando, però, uh, se arriviamo a 100 like va bene eh Cazzo mi aspetto che sia cambiato qualcosa no? Ho avviato il gioco, c'era scritto come dare le munizioni, come dare i kit medici e come fare qualcos'altro che non ricordo Sarà cambiato qualcosa? Mi aspetto, dai, su Dopo un po' di tempo che non ci gioco Non so, una community più matura, collaborativa Se sto cazzo Non partire prevenuto Mike, non partire prevenuto E abituarsi al sistema di mira è proprio difficile perché è completamente diverso Aspetta uno flanca di qua E gioca la fermo Ah vabbè, tag clan out, ho capito Autistico, va bene, va bene Chi è? Chi è? Cristo Ecco vedi, punto a capo siamo, punto a capo Va bene Uh, ma rianimato però eh Forse c'è una speranza Ah l'ha ucciso, ok Incredibile comunque Cioè proprio riusciamo ad essere schiacciati su una modalità come conquista Non è che dici sfondamento, conquista eh Eh, non mi ricordi com'ha Che culo Non mi ricordavo il tasso della cura Kit medico ragazzo? Come si chiedeva qua? Oh, mi dai il kit medico? Niente, vabbè Madonna Ragazzi io veramente non capisco come la gente abbia voglia di vedere video su questo gioco Cioè non riesco proprio a trovare dietro una logica, un collegamento Non lo so, ma vi diverte veramente vedere questo gioco Questo ha speso soldi per l'animazione che corre 8 kill 3 morti Ma sì dai Cioè guardate la gente quanto pinga di là Ma veramente, ma veramente fate Ma veramente Ci proviamo sto ZK che non ho mai usato in vita mia Probabilmente non ci farò manco una kill Come cazzo ci si... Ah, fraccetta su, vai vai Eh, uno mi sta flencando là dietro Questo è Call of Duty Avrò fatto tipo 5 reanimazioni Ovviamente subita a nessuna Perché Sennò non si chiama Battlefield Eh, Call of Duty 5 Cazzo Devo curare qualcuno Dai Por... Da dove è uscito questo? Ragazzi io cerco di non partire prevenuto Però veramente Cioè questa qui non è conquista Io ho giocato per un bel po' di tempo in questo periodo a Battlefield 4 Non era tutto questo macello Non era tutto questo macello Ma io voglio capire Ma perché su questo gioco è così? È tutto un buttarsi nella mischia Cercando di fare più kill Battlefield 4 non è così eh Non è così Adesso solita lamentela Come sempre però Io devo... Devo commentare e giudicare quello che vedo Battlefield 4 non è così eh A meno che non giochi mappe come Operation Underground Perché lì sono parecchio chiuse Capito? Qui invece è tutto così Prima ho giocato... Che cos'era? Eh... Accampamento al Marge Sicuramente è mappa più aperta di questa Era la stessa cosa di qua eh Non cambia nulla Oh! Lagga questo! Ma che cazzo? Ma che cazzo ti scivoli imbecille? Vai 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 Zici provo anche se non ho i fumogini vai Cazzo Cioè ma non sta rianimando nessuno ragazzi Nessuno eh Ma va va guarda guarda E rianima gioco di merda Guarda guarda va che gioco di merda Ma va a cagare va Questo non è... Non è Battlefield ragazzi Non è Battlefield questo Ecco va La squadra di tryhard Eh ovviamente Tre medici l'altro assalto Tutti rigorosamente con un ping o il 300 Ho fatto 11 chilotto morti comunque Ho smirato qua Ho smirato La domanda è Cosa stai facendo lì? Sei classe assalto? Sei ancora nello spawn Sei eh? E rimane lì Rimane guardalo Cioè capito? E questa è la domanda Comunque io ho smirato Non c'è dubbio ho smirato Uh mi ha rianimato Grandissimo Minchia quanto c'ho messo Ho smirato Grande zio Ah questo è un simiautomatico Quindi occhio Basta camperare Che mi hai rotti i coglioni Chi arma aveva? Aspetta aspetta Fatto L'M1 Gar Andasi in simiautomatico Perché 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 Non c'è una risposta È perché Ah dietro ai muri Becca lei? Come fa? Ah è un utente pagante Ho capito Eh ho avuto sfiga qua Stavo caricando E niente Ho fatto l'errore Di salire le scale Ho fatto l'errore Ma che cazzo fate qua? Ma che cazzo state facendo? Questo a livello 14 ha già la Wellgun Eh vabbè va Eh Mike stava difendendo Ma stava difendendo un paio di palle Stava difendendo Che poi non ho capito Perché sono caduto Tipo Un'onda turto Ma Qua non c'è Non è una modalità Dove piazzi esplosivi Che poi fa esplodere Posso capire perché sono caduto? Guarda caso Sono caduto nel mentre Ho incontrato i nemici Eh sì eh Guarda caso Perché se capitava prima Probabilmente li avrei uccisi tutti e due Vero? Certo che è vero Certo che è vero Assolutamente sì che è vero Eh no Gli ho prima Come assistenza Perché? Putta storia Oh che cazzo fai? Ma hanno aggiunto tipo l'effetto Avete sentito? Tipo come se sgommassi con un'auto Su un pavimento Da interno Cazzo gente dietro Avete sentito? Ma Lo fa da sempre Perché non me lo ricordo Fatto L'ho visto quello lì in fondo Dove ho andato? Tipo io Morirò sicuramente Ma non me ne frega un cazzo Ma non me ne frega un cazzo Ho detto proprio così Vai bomber Oh ma c'è uno qua fuori eh Ok te lo riuscito di nuovo Bella stazione mi è piaciuta eh Poi è riuscito a strapparmi un sorriso questo gioco assurdo eh Oh chi è? Chi è? Un semiautomatico silenziato? Eh niente Comunque nel caso dovessimo Devo ancora decidere perché Vedete la situazione Nel caso dovessimo riprendere a giocare questo gioco Non mi vedrete mai più utilizzare semiautomatici Io vi avviso Perché Perché basta Semplicemente perché basta Bohemia come cazzo di Eh no era lì camperato Volevo andare a rienimarlo ma Questo ha pensato Che sarebbe stato divertente Utilizzare il bipode su un'arma Che non era in culo quindi Perché Dirgli qualcosa Basta Mai romava Ah il carro che camperava lì Mi mancava cazzo Mi mancava Abbiamo un bel po' di gente qua L'avete fatto? Cazzo No Era messo là Guarda 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 lì guarda lì Ma che bel quadretto di coglioni Guarda Che poi ho fatto il tondo Dovevo fare così Dovevo fare Ma No da Camperati proprio dove non c'è motivo di camperare Chi l'ha fatto questo? Eh mi ammazzerà il carro nemico Io comunque provo la rianimazione Vai Quello ho ancora che camperà lì sopra eh Ma com'è possibile che gioca là? Ah l'ho colpito Abbiamo preso l'obiettivo Emilio Oh E c'è morto pure l'immortacci sua Ancora qui Era ancora qui Quanto è passato dalla scorsa morte? Cinque minuti eh Non lo so No vabbè no Cinque minuti no No l'ha tirato qua Fidati Fidate Fidate L'ha tirato qua Guarda eh Mo ci muoio Infatti L'ha tirato qui In acqua Madonna mia Che culo Non so neanche perché ne ha fatti così pochi onestamente Eravamo tutti là Ma No io Prima ci duccio con Dino Ma hai rotto il cazzo eh Italiano no Ma hai veramente rotto il cazzo Ma pensa a cambiare un po' la classe Invece che mettere solo medico Con l'MP40 Vabbè dai Almeno che con l'MP40 Ma hai rotto il cazzo questa classe Mi dico ma cambia un po' Hanno da manà Finchio se non mettono quella classe Non fanno belle partite eh Quindi eh La devo mettere Sì la devo mettere Chiaranimo io tranquillo Oh Erianima Eh Batta Naffanculo No ragazzi C'è gente che sta prendendo sta bandiera Devo scendere La gente Ah beh c'è dietro i muri Non lo sapevo Eh vatta Naffanculo Non è sempre domenica eh Ah boh dai È finita Sconfitta Praticamente abbiamo fatto Tre sconfitti di fila Questo gioco non si smentisce mai Da questo lato Anche se in realtà Non si smentisce Da molti altri lati Siete forti Va bene Tanto com'è che si dice Ah no Sì Avrò censurato molto probabilmente Signori Concludo la partita con 37 kill 13 morti Quindi come vi ho detto anche prima Se ritornerò a fare video Su questo gioco Molto probabilmente Non mi vedrete mai più Utilizzare semi automatici Perché proprio in generale Come vedete anche su Batte P4 Mi sono proprio stufato Non li utilizzerò mai più Penso Credo eh Poi non lo so Quindi fatemi sapere Cosa ne pensate di questo video Su Call of Duty 5 Per questo video è tutto Ci vediamo alla prossima Un saluto a tutti Un saluto a tutti